Il teatro stabile del Veneto mostra i suoi conti dopo il cambio alla direzione. Un inatteso contributo di 60.000 euro dal Ministero della Cultura fa partire l'anno con il piede giusto. Sul piatto poi anche i successi della stagione natalizia con le sale piene e il numero di presenze e incassi in crescita. Non è certo tutto oro, come ammette anche Gian Piero Beltotto, il nuovo direttore artistico. L'ambizione è portare lo stabile in tutti i teatri del Veneto, a cominciare da Treviso, il cui comunale del Monaco soffre le conseguenze della crisi di fondazione Casamarca, ma poi anche Verona, Vicenza e Rovigo. Le piccole sale spiega da sole non hanno futuro. Il successo delle baruffe Chiozzotti al Mosso Vette di Mosca apre la strada a un disegno che contempla tappe internazionali e anche la programmazione con l'incrocio delle arti sperimentato recentemente, per esempio nello spettacolo Generare Dio con Cacciari, si prepara a nuove produzioni di richiamo con una ipotesi di collaborazione con Andrea Camilleri, ancora tutta da esplorare. Questo teatro stabile è destinato a crescere? In che modo? Dobbiamo aumentare la massa critica, Treviso deve entrare nel teatro stabile, poi dopo Treviso le altre città capoluogo. Dobbiamo convincere gli imprenditori che possono risparmiare il 65% sulle loro tasse investendo su di noi e dobbiamo convincere le persone fisiche che possono donarci il 5x1000. I conti stanno andando nella giusta direzione? Guardi, noi abbiamo in questi giorni completato l'operazione delle card regalo che consentono agli spettatori di regalare un ingresso. Ne abbiamo vendute 780 per 40.000 euro di incasso, siamo molto più che soddisfatti. Fondi che arrivano anche dal Ministero, che consentiranno di fare cose? Beh, intanto credo che, come è stato detto in una conferenza stampa, il Ministero abbia in qualche modo riconosciuto un certo risarcimento rispetto a un guasto che era stato provocato. E poi, non dobbiamo dimenticare i soci, la Regione, il Comune di Venezia e il Comune di Padova che danno un sostegno enorme a questo teatro. Lei ha parlato di una necessità di fare squadra, di imitare un po' anche il modello emiliano. Ci sono però molte resistenze. Come superarle? Ma non ci sono resistenze, ci sono pigrizie. C'è gente pigra, c'è gente che non usa più la fantasia, c'è gente che pensa che si possa vivere come negli anni 70, c'è gente che pensa che i soldi dello Stato arriveranno sempre e comunque, c'è gente che non pensa che c'è un mercato di riferimento, c'è gente che non pensa che il pubblico possa smettere di comprare biglietti, c'è gente che pensa che si possa entrare a teatro gratis, c'è gente che pensa male, insomma. Dal punto di vista della sperimentazione sono stati fatti alcuni esperimenti proprio nel corso dell'ultima stagione. Questa è la linea delle nuove produzioni e del nuovo teatro stabile? La linea è che il teatro deve rimanere aperto sempre, la linea è che il teatro deve ragionare con tutti quelli che stanno facendo cultura in questa regione, in questo paese, in Europa, e se si può anche nel mondo dopo la triunfale tournée a Mosca. La linea è un teatro aperto. Un teatro aperto anche mentalmente, aperto alla compenetrazione tra le diverse arti. Guarda, se il teatro non è aperto mentalmente non ha senso, meglio che chiuda. Ok, qualche anticipazione su quello che vuole in pentola? Treviso intanto. Amiamo Treviso, vogliamo che Treviso entri nel teatro stabile e siamo disposti davvero per questo obiettivo a fare molte cose, anche quelle che non ci competono, perché accada.